Che cosa vuol dire fare seriamente dei percorsi di alternanza? Non vuol dire solo portare le persone in azienda, che già è importante ed è già fondamentale, ma quello che noi diciamo come base è quello di costruire insieme il percorso di formazione, che in parte poi viene fatto presso la struttura formativa, in parte viene fatto in impresa con il reciproco riconoscimento dell'apporto che viene ricondotto alla filiera formativa e al sistema delle aziende. Stiamo anche lavorando proprio perché c'è un duale tedesco che nasce in una logica di raccordo con l'università, stiamo anche tentando di lavorare con l'università, perché anche quello è per noi una filiera, un segmento assolutamente interessante, ovviamente per le nostre imprese. Che cosa stiamo cercando di fare? Di portare il più possibile i giovani in impresa attraverso uno scambio che parte da, sto parlando dell'esperienza con l'università, che parte da una prima esperienza curricolare e poi dovrebbe, uso il condizionale perché ancora non è realtà, dovrebbe poi sfociare in un'assunzione in apprendistato. Per quanto ci riguarda, per noi è comunque in contratto vincente per i giovani, ma va semplificato, bisogna trovare comunque una soluzione, per esempio sul discorso delle retribuzioni.